Rispetto alla nostra indagine, in cui noi abbiamo che l'80% degli italiani, e lo dice non soltanto l'osservatorio dell'Arca, ma lo dice anche Istat e il Censis, l'80-85% della gente si informa attraverso la TV, ma da noi ormai il 70% delle persone si informa su Internet. Quindi la televisione viene compensata fortemente da Internet e spesso la televisione si guarda attraverso Internet, attraverso i social network. Qua, da quello che abbiamo potuto capire dalle loro riflessioni, credo che valga molto di più la televisione e l'attività di social network che noi facciamo è molto più ridotta.